ok non è comodo però mi piace però ora vado in bagno buon bagno buon bagno grazie ragazzo è qui mh tessà ci ho provato mannaggia è funzionato bene adesso ci siamo davvero a casa ma dove ti fai la casa? la hardcore dove volete altri giorni ma andate davvero su creeper prima o qua ahahahahha come verso a